Oggi è stata anche l'occasione per presentare questo grande progetto che è la costituzione di Blue Academy Pensare all'ambiente che vuol dire dare concretezza a questa attenzione, a questa propensione naturale che i servizi ambientali ha da anni verso l'ambiente e verso tutto ciò che sta attorno al ciclo integrato delle acque. Anche questo ha riscosso un grande successo. Oggi erano presenti a questo convegno diverse realtà dell'ARPAL a livello interprovinciale e anche la presenza di ARPAL a livello regionale. Credo che anche questo sia una testimonianza del fatto che l'idea e il pensiero di vedere la depurazione, vedere gli impianti, vedere il ciclo delle acque come uno strumento per migliorare e monitorare l'ambiente sia un progetto vincente.